Dove? Un vodoro, un papaiolo Qui arriviamo al laghetto delle streghe, quello che ti diceva proprio quella ragazza lì, sai? Non ho programmato questa cosa perché se il tempo era brutto qui non puoi venire Invece il tempo è molto bello Questa è la piana di Crampiolo, Emanuele Emanuele Tutta roba della valle Sembrano quelle guide Grazie 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 Cosa ne dici, Emanuele? Sì Ciao! Guarda che acqua pulita e cristallina! Perchè, qua sono i miei paleri! Perchè, qui viene a fare aeree! Polente pasticciata, polente spezzatino, polente funghi, polente salsiccia, polente brasato, polente c'erlo tagliere misto se non ti piace la polenta sei fottuto c'erano il lago di te per 20 minuti e c'è il lago delle streghe qui dietro 10 minuti andiamo a vedere al lago delle streghe che è qui vicino si si non si fa il toschiano? dici che non lo so fa il toschiano? una morsica nell'occhio un altro grado passa sull'asse così non ti sporchi i piedi bello pacciugoso eviterei di siccarmi nel fango uno, due, tre un altro grado 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 prendete un caffettino amore un altro grado 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 Grazie a tutti.